Buonasera e bentrovati con Sabato Sport. È stato un sabato calcisticamente ricco e soprattutto foriero di buone notizie per quanto riguarda i colori amaranto. Allora andiamo a rileggere tutti i risultati delle partite con la relativa classifica delle gare che sono disputate in questo intenso sabato calcistico. Li leggiamo con l'ausilio della grafica. Ostia Mare Alto Pascio 1 a 1, Ghiviborgo San Giovanese 1 a 1, a Poggi Bonzi Camponeutro Arezzo batte Grosseto 2 a 1, a Ponzacco Sporting Trestina Mobiliari Ponzacco 4 a 1, a Roma Poggi Bonzi Montespaccato 4 a 2, a Terranova Bracciolini Flaminia, Terranova Traiana 3 a 1. Domani si disputeranno Città di Castello, Follorica Gavorano, Livorno Pianese, Seravezza Pozzi Orvietana. Questa la classifica generale provvisoria. Arezzo in testa con 65 punti, 10 punti di vantaggio sulla Pianese, Poggi Bonzi Terzo a 50, Follorica 47, Livorno 43, Flaminia Ghiviborgo 41, San Giovannese 39, Seravezza 38, Ponzacco 34, Ostia Mare 33, Tau 32, Grosseto 31, Trestina e Orvietana con il Città di Castello a 30, chiudono Terranova Traiana e Montespaccato a 27. Dunque sul campo di Poggi Bonzi arriva l'ottavo successo consecutivo del Arezzo, una vittoria in rimonta della formazione di Paolo Indiani a spese del Grosseto. Non si ferma la marcia del Arezzo che batta anche il Grosseto sul neutro di Poggi Bonzi, si riporta più 10 sulla Pianese in attesa della partita degli Amiatini a Livorno. Vittoria in rimonta contro una formazione che si trova in acque, poche tranquille, successo razionale che conferma la forza di un gruppo che ha raggiunto la sua ottava vittoria consecutiva in questo girone di ritorno. Indiani era partito con il classico 4-3-3, Grosseto rispondeva con un guardingo 3-5-2 senza peraltro il tecnico Cretaz in panchina appiedato dal giudice. Gli Amaranto iniziano con il solito possesso ma i ritmi sono più che blandi, al quinto un contatto, Zona Giustarini è giudicato regolare dal direttore di gara. Un minuto dopo l'arbitro sorvola su questo tocco poco gentile di Battisti di Sudamiani. Al nono anche Castiglia subisce una entrata fin troppo dura ma anche in questo caso Gallo fa l'inglese. Il taccuino registra la prima azione degna di nota al diciottesimo ma la conclusione di Convitto vede la bella distensione di Nannetti in corner. Ventiduesimo mentre i tifosi dell'Arezzo si fanno sentire fuori dallo stadio Lotti, Gucci dopo aver evitato il contatto con Bruni va al tiro ma la conclusione non è felice. L'Arezzo al ventisettesimo reclama anche un presunto tocco di Gomez ma l'arbitro decide per il calcio d'angolo. Minuto trentadue invenzione di Convitto, cross tagliato per Foglia, Risaliti sul secondo palo arriva ma la deviazione va fuori. Brutte notizie per lo stesso Risaliti infatti al quarantunesimo si becca il cartellino giallo per un fallo su Crivellaro. Il difensore era in diffida e dopo sessanta secondi il Grosseto passa in vantaggio. Da palla ferma Pasciuti finta il tiro e appoggia Cretella sulla destra che mette in mezzo una palla tagliata. Il tocco decisivo è dell'ex Bruni che applica la legge non scritta nel calcio. Doccia fredda per l'Arezzo che subisce alla prima vera incursione dei padroni di casa. Si fa riposo con gli Amaranto sotto. Nella ripresa il Grosseto ha una buona opportunità con Crivellaro che non sfrutta al meglio un bel pallone di Pasciuti. Il tiro va fuori da buona posizione. Gli Amaranto crescono e al decimo pareggiano e Gucci che sfonda la linea difensiva con un gol da grande attaccante. Il centravanti resiste alla pressione di Carannanti in area ingirata. Segna il pareggio. Settimo gol stagionale per lui da rimarcare anche l'assist di Fabio Foglia. Il pareggio cambia l'inerzia del match. Indiani gioca la carta Pattarello al ventesimo per convitto. Dopo cinque minuti arriva il calcio di rigore decretato per un fallo di Ferrante proprio ai danni di Pattarello travolto mentre era il tiro in pianaria. Dagli undici metri la freddezza di Luca Castiglia non dà scampo a Nannetti. Due a uno per l'Arezzo. Nel finale da segnalare al quarantasesesimo una buona opportunità con Pattarello che perde la coordinazione al momento della battuta mentre prima del triplice finché una palla vagante in area amaranto per poco non è chiusa dalla fisicità di Gomes. Ma alla fine la festa è tutta dell'Arezzo spito dal sostegno esterno dei tanti tifosi giunti a Poggi Bonzi. Naturalmente per le interviste vi rimandiamo alla nostra edizione di Domenica Sport. Parliamo adesso della San Giovanese che ha pareggiato in estremis nel non certo facile campo di Givizzano con il Giviborgo. Senza Vanni e Sacchini fermati dal giudice sportivo mister Firicano sceglie Capri in avanti anche per Anagrafe lasciando inizialmente in panchina ZAR mentre Bellini torna dal primo minuto. In mediana c'è posto per Miccoli tra gli undici dietro Cesaretti e Dodaro sono i cursori di fascia. Di fronte c'è un Giviborgo squadra più in forma del periodo assieme all'Arezzo reduce da quattro vittorie di fila. Gara molto verde, sette quote nei Garfagnini, sei nei Valdarnesi. Taccuino rinnovato al quattordicesimo con la triangolazione tra Buongiorni e Tigani, botta fuori del numero undici locale. Risponde la San Giovannese con l'incornata di Caprio sul traversone di Dodaro, stessa sorte del tentativo opposto precedente. Poco altro da mostrare per la frazione, attenzione al tiro cross di Buongiorni. Sfiora, Nottoli, Cipriani vede la sfera non lontana dal montante. Inizio ripresa, Miccoli spira Rossetti di testa, stavolta lo specchio è centrato, per Antonini però è ordinaria amministrazione, ma a gonfiare la rete da parte opposta al Giviborgo, Conzini che chiama l'imbucata sottomisura ed anticipa il Buongiorni per l'1-0 al termine di una pregevole azione collettiva. Ci mette un po' il marzocco a rialzarsi, la percussione di Zar, minuto 29, è conclusa con il destro dal limite che si esaurisce oltre la traversa. Nel recupero però gli azzurri sono all'arma bianca, un tocco di troppo per Bosch che viene anticipato, a pochi passi dal pari, un corner, minuto 49, direttamente nello specchio, che Antonini smanaccia sul fronte difensivo opposto e a 30 secondi dalla fine il fallo, in area su Senesi per il penalty che Zar trasforma spiazzando l'estremo di casa, finisce quindi 1-1. E per il Città di Castello una vigilia importantissima, il Bernicchi arriva il Follonica Gavorrano e in casa Biancorossa si punta al recupero di tutti gli acciaccati, parla Domenico Brunetti. Insieme a Domenico Brunetti per presentare la partita contro il Follonica Gavorrano, una sfida, possiamo dire, decisiva anche se da qui alla fine lo sono tutte. Sì, diciamo che per noi è una partita fondamentale per ripartire, soprattutto dopo aver perso sei partiti di seguito. Adesso c'è stata la pausa quindi abbiamo avuto modo di lavorare bene, penso che abbiamo fatto un bel lavoro e spero che Domenico arrivi un risultato positivo da qui ripartire. Ecco, voi siete stati anche, possiamo dire, penalizzati da tante sia squalifiche che infortuni soprattutto nel girone di ritorno? Sì, diciamo che abbiamo avuto un girone di ritorno non facile, non voglio cercarli, biecco perché comunque infortuni, ok, tutto, ma comunque abbiamo sei partite per recuperare e per uscire da questa situazione difficile. E per Domenico occorre solo un risultato? Domenico bisogna vincere, come ho detto anche prima andiamo in cerca di un risultato positivo che ci faccia uscire anche un po' a livello mentale da questa situazione che secondo me è tanto a livello mentale una situazione come questa perché è una squadra che all'andata ha fatto 25 punti quindi siamo pronti per Domenico. Passiamo adesso alla Serie C, vediamo i risultati della giornata odierna per quanto riguarda il Girone B, si giocava la giornata numero 35, Obbia Alessandria 4-0, Ancona, Cararese 3-3, a Fiorenzuola, Torres Fiorenzuola 3-1, a Montevarchi, Sandonato Tavernelli a Montevarchi 3-1, Cesena Lucchese 1-1, Fermana Siena 3-1, Gubbio Vispesaro 3-0, Reggiana Recanatese 1-1, Intella, Pontedera 1-0, Imolese, Rimini 1-1, ma la partita ancora in corso di svolgimento, la classifica, vede in testa l'aggancio in vetta tra Virtusentella e Reggiana con 74 punti, Cesena 70, Gubbio e Cararese 58, Ancona 55, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 47, Rimini 45, Fermana e Recanatese 43, Fiorenzuola 39, Olbia e Torres 38, Sandonato 34, Vispesaro 33, Alessandria e Imolese 32, chiude il Montevarchi a 27 punti, dunque si aggrava ancora di più la situazione del Montevarchi sconfitto della partita che forse era considerata la ultima spiaggia per la squadra Aquilotta. Nell'uovo di Pasqua del Montevarchi arriva il verdetto che anticipa il passo d'addio alla Serie C. Dopo appena due stagioni gli Aquilotti hanno la valigia pronta per la quarta serie e per il sottile gioco del Paradosso. A spingere in maniera definitiva è stata la matricola a Sandonato, l'unica formazione che non aveva bisogno delle coordinate del Brilliperi, visto che ci ha giocato per tutto l'anno. Partono ha sprombattuto i padroni di casa, ma che poi crollano nella ripresa sotto i colpi della formazione fiorentina. Dopo otto minuti buona discesa di Cerasani sulla destra, palla nel mezzo per Amatucci che però colpisce il portiere. La partita è molto spezzettata e il gioco dunque frammentato, ma alla mezz'ora si sblocca. Pasticcio della difesa del Sandonato con un disastroso passaggio all'indietro di Gorelli verso il portiere Cardelli con la palla che arriva sui piedi di Rovaglia che non ha problemi a segnare nell'uno contro uno. Il primo tempo termina con il vantaggio minimo per la formazione di Banchini. Seconda frazione che però parte malissimo per il Montevarchi. Dopo nove minuti corner dalla sinistra da parte dell'ex Arezzo e Sangio, Gerardini palla che arriva a Mazzierli che è lasciato solo Soletto in area. Non ha problemi a battere giusti con un diagonale preciso. Spingono gli ospiti al sessantaseesimo, guadagnano anche un calcio di rigore. Atterrato Gerardini da Bertola in area con l'arbitro che decide per il tiro dagli undici metri, trasformato dal capitano dei giallo-blu Brenna. Due a uno e notte fonda per il Montevarchi. Manchini cerca di cambiare le carte ma ormai è troppo tardi. Il Sandonato è padrone del campo. Al settantaquattresimo miracolo di giusti su Ubaldi a colpo sicuro. Il numero uno, anzi ventidue del Montevarchi è strepitoso anche sull'ultimo contropiede sempre dello scatenato Gerardini. Ma al novantaquattresimo un nuovo calcio di rigore per la formazione ospite chiude i giochi. Dal dischetto si presenta il giovane Noccioli che segna la rete del definitivo 3-1. Fischio finale per il Montevarchi sarà opportuno già preparare la Serie D. E parliamo anche del turno di eccellenza. Ecco la vigilia della 32esima giornata. Per la corsa a salvezza c'è una grande opportunità per il Foiano di Zacchei. A 270 minuti dalla fine del campionato di eccellenza potrebbe arrivare il primo verdetto domani. A figli dell'ospomante già in frigo anche se per scaramanzia non verrà mai questo confermato. I gialloblu sono con un piede in Serie D e la trasferta sull'erba nobile ma sintetica del Buozzi contro la Rondinella Firenze potrebbe dare quello che ancora manca. La formazione valdarnese per il Figline una grande soddisfazione e soprattutto una grande rivincita dopo un'estate calcisticamente drammatica che ha rischiato di fare saltare il banco. L'altro confronto particolare sarà quello di Gaiole dove arriva il Foiano. Reduce dalla delusione patita domenica scorsa nel derby contro la Castiglionese. La squadra di Zacchei cerca il riscatto contro la Chiantigiana. Occhio ai numeri attualmente la squadra senese ha un distacco tale che la vedrebbe subito in promozione. Se il Foiano vince allarga questa forbice aiutando anche i cugini della Sinalunghese che hanno gli stessi problemi. Anche la Castiglionese potrebbe essere arbitra della salvezza visto che riceve la Lastrigiana. Ancora non del tutto tranquilla. I Viola inseguono il secondo posto e aspettano buone notizie dal faccia a faccia tra Collegiane e Pontassieve. Chiude i giochi la Baldaccio Bruni di Andiari che ospita la Fortis Juventus. Squadra descritta come la grande delusione stagionale. Dalle parti dello Zanchi sperano che tutto questo possa continuare. Per quanto riguarda gli altri sport vi ricordiamo domani gara di Montagbike a Tavernelle di Cortona. Cortona si sta confermando la capitale della Montagbike dopo la Baccialla Bike di due settimane fa ad una sola settimana dalla Rampitiana. Mentre per quanto riguarda il podismo domattina c'è Vivi in città dove è inserita la corsa del Saracido. Intanto il mondo delle due ruote sfida il mercato. Arezzo abbraccia un celebre marchio mondiale e tutto questo grazie a imprenditori presenti sul territorio da alcuni anni. Un marchio mondiale simbolo delle due ruote è un evento che riporta nel territorio aritino il famoso brand giapponese. Con un evento partecipato alla presenza di appassionati di motori e non solo Arezzo ha celebrato l'arrivo del brand Yamaha. Era proprio dare anche alla città di Arezzo e tutta la provincia una concessionaria importante una superficie importante per seguire al meglio tutti i nostri clienti Yamaha. Le strategie di mercato oggi quali sono? Oggi è importante dare un prodotto sicuramente quello che si aspetta alla clientela quindi un prodotto qualitativo, affidabile e soprattutto avere concessionari che sono presenti già sul mercato della mobilità e i prossimi passi sicuramente vertiranno anche sull'elettrico, sulla mobilità urbana e oltre a quello che è il nostro DNA quindi il marchio sportivo, le moto da turismo e tutto il resto. A quale pubblico vi rivolgete soprattutto? Noi ci rivolgiamo come Yamaha, Yamaha si rivolge a tutto il pubblico perché possiamo coprire tutta l'utenza, da qui mettiamo il punto e dobbiamo in questo foglio bianco tracciare tutto il percorso che vogliamo fare. Da oggi abbiamo ad International Motor il brand Yamaha, possiamo servire la mobilità Yamaha in tutta la provincia di Arezzo e fuori. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, vi ricordo gli appuntamenti sportivi di domani in serata dopo la nostra Domenica Sport e vi trasmetteremo la telecronaca ovviamente differita di Città di Castello, Follorica, Gavorrano con il commento di Riccardo Buffetti e le riprese di Daniele Cionnini. Noi vi aspettiamo domani per Domenica Sport. Noi vi aspettiamo domani per Domenica Sport.